Siamo passati più di dieci anni, è un piacere rivedere Leonardo Bitetto. Come sta? Bene, bene, coperto come tutti quanti noi. Sembriamo irriconoscibili, però siamo sempre gli stessi, forse anche meglio. Forse anche meglio e questo è bello sentirlo dire. Non si vive naturalmente i ricordi, ma quello che ha fatto Bitetto a Giulianova rimane. Salvezza quando subentrò a Favo e grande vittoria del campionato DC2 in quelle due partite di finale, semifinale Bassano e poi la finalissima col Prato. Un ricordo lontano, molto bello, molto emozionante, poi tra il resto noi viviamo anche di questo, di emozioni che viviamo noi e che facciamo vivere anche i tifosi, sia positivi e anche negativi a volte. Che cosa l'ha spinta a tornare dopo più di dieci anni? Proprio il fascino e il richiamo di questa piazza? Sì, il fascino e il richiamo di questa piazza, di questa cittadina che conosco molto bene, ovviamente ci sono stato tre anni, dieci anni fa. E poi la voglia di rimettermi in gioco, perché tante volte in questi ultimi campionati di Serie D diciamo che ho fatto anche dei campionati importanti, perché sia con la Cavese sia col Cerignola siamo praticamente saliti in C, raggiungendo il secondo posto e vincendo i rispettivi playoff. Poi l'anno scorso con il Casarano fino a febbraio eravamo al quinto posto e poi quest'anno stava durando troppo lunga l'attesa di una squadra. Mi hanno chiamato qui da Giulianova e sinceramente non ho resistito, sia per ritornare ad allenare sia anche perché il fascino di questa cittadina è ancora dentro. La tende a una grande sfida? Sì, molto impegnativa, devo dire. Anche questo, diversamente da questi ultimi miei anni, è una sfida diversa, una sfida molto più impegnativa, molto più importante e altrettanto stimolante. Premesse però incoraggianti, 0-0 sul campo basso che, detta degli esperti, la squadra sembrerebbe essere, mettiamolo col condizionale, la squadra più forte del campionato sulla carta. Sì, è una squadra più che valida, lo ha dimostrato anche di noi. Noi siamo stati molto bravi a preparare la partita in quattro allenamenti che ho fatto io. A me interessa soprattutto avere una risposta da subito da parte di tutto il gruppo, dai giovani e anche dai meno giovani. A campo basso l'hanno fatto, si sono adoperati, si sono applicati e certo abbiamo fatto una partita più difensiva, rispetto, però era una partita che potevamo fare e dovevamo fare contro una squadra molto forte come il campo basso. Naturalmente Bitetto bisogna sfruttare anche la finestra di mercato? Senza dubbio, senza dubbio perché ne abbiamo tanto bisogno anche per riempire la rosa, riempire la rosa magari con giocatori di struttura, struttura non solo fisica ma anche tecnica. Diciamo che saranno puntellati tutti i reparti? Io non le chiedo nomi però. Sì, 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 credo di sì. Minimo tre elementi dovranno necessariamente arrivare. Anche il campionato di Serie D sembra essere un torneo pesantemente condizionato da questa pandemia o è falsato secondo lei? No, condizionato. Falsato, sì, si può anche dire falsato, però condizionato anche perché io mi rifaccio sempre al mio spirito di sportivo. Gli sportivi si sanno adattare, certo, si sanno adattare e superare queste difficoltà perché effettivamente ci sono delle grosse difficoltà. Da sportivo uno riesce sempre comunque ad affrontarle e a superarle. Assolutamente, i tempi sono cambiati però la passione di questa piazza è rimasta immutata, no? Sì, questo sì, questo sì. Purtroppo non sono ancora riuscito a notarlo, vuoi per il poco tempo che ho avuto a disposizione ma vuoi che l'effetto pandemia si vede anche in giro per la strada. Però insomma quando lei pensa a quegli anni che ha vissuto qui sono stati anni straordinari, non solo per la promozione ma anche per la salvezza. Però la promozione è stata qualcosa di unico. Sono vividi i ricordi in bitetto di quelle giornate? Beh, sono ritornati alla mente soprattutto quando facevo la strada da casa, da Bari fino a Giulianova. Insomma, man mano che mi avvicinavo ricordavo quei momenti. La cosa mi ha entusiasmato ancora di più ad accettare questa nuova, difficoltosa e impegnativa sfida. Lei comunque ha allenato qua giocatori che stanno calcando anche ribalte prestigiose. Ricordo per esempio Galabinov per poco tempo, era giovanissimo. Galabinov poi è diventato un calciatore importante. Lo stesso Federico Melchiorri. Sì, ce ne sono. Migliore. Migliore. Vinetotte perché è il difensore centrale. Sì, sono stati anni belli, prolifici anche per questo. Per noi allenatori sì, il risultato sportivo è fondamentale. Però poi quando si riesce a far sì che i propri calciatori diventano e raggiungono serie superiori come quelli che hai appena citato, non può che sentirsi sempre più orgoglioso e sempre più pronto a nuove avventure. Ha ritrovato Campagnacci. È chiaro che sono passati tanti anni. Magari non sarà il Campagnacci di prima. Però che effetto le fa questo? L'effetto del ricordo. Però sono passati tanti anni. Tanti anni per un atleta sono tanti. Magari per un tecnico no. Magari il tecnico può perdere qualche capello o diventati bianchi. Però per un calciatore ovviamente adesso i ritmi del resto sono diventati sempre più alti. E diventa per loro magari mantenerlo all'infinito. Certo, il resto è un 87, va per il 34. Le faccio davvero l'ultimissima. Io ricordo ancora il girone di andata del suo ultimo campionato a Giulianova. Prima divisione, l'attuale Serie C, la C1. Il Giulianova fu protagonista. Poi che cosa accadde nel giro di ritorno? Peccato, no? Ci sono delle situazioni che magari hanno condizionato. Una fra tutte è stata purtroppo l'assenza di Melchiorri. Melchiorri che era in piena salita, stava facendo decisamente molto molto bene. Poi purtroppo quella sua malattia lo ha bloccato per due anni. Quello è una, poi ce ne sono state altre molto più piccole che hanno condizionato. Però rimane un rimpianto, no? Cominciaste benissimo, giocando anche un ottimo campionato. Sì, sì, ma di fatti con tutti quei giocatori di cui ricordavi tu prima, insomma, perché era un bel gruppo solido da subito. Giocava anche Dezzi, giovanissimo, 16 anni, ha esordito, ha fatto 13 presenze. E poi nel giro di ritorno è successo qualcosa che magari non poteva essere neanche prevedibile. Complimenti, mister, e soprattutto in bocca al lupo. Grazie, ce lo vogliamo tutto, questo in bocca al lupo.